Oggi vi presentiamo Franco Smargiassi, che è un vastese, nato a Vasto, del resto lo dice lo stesso cognomeno, però è andato e attualmente sta in Australia, dove si sta dedicando ad un lavoro veramente interessante. Un lavoro che consiste nel raccogliere e nel documentare le storie degli emigrati, soprattutto vastesi, ma non solo, che stanno lì. Per la verità lui sta pensando di fare anche un lavoro con gli emigrati che sono tornati dall'Australia. Allora, Franco o Frank, spiegaci meglio nel dettaglio quello che stai facendo e poi anche perché lo stai facendo. La genesi di questo lavoro risale forse nel 2004, quando abbiamo celebrato in Australia 50 anni di emigrazione personale. Il nostro padre Giuseppe Smargiassi è andato nel 1952 in Australia, l'anno dopo nostro fratello maggiore Cesario, e finalmente siamo andati, mamma, e quattro di noi nel 1954. Ho pensato cosa fare per questo cinquantesimo e così abbiamo, ho deciso di fare questo documentario. Non in quell'epoca, a quell'epoca era più interessato di raccimulare, di mettere assieme documenti familiari. Tipicalmente, come tutte le famiglie, sono fotografie qua, qua che era un documento in altro posto. E ho guardato in giro per vedere come fare e ho cercato del software, ma non esisteva a quell'epoca. E così piuttosto ho deciso di crearne, perché è un'attività che ho svolto dal 95, sviluppo software per insegnare geografia in Australia. E così ho pensato di creare. Quindi hai creato un vero e proprio programma? Sì, l'ho chiamato in inglese document keeper o cassa dei documenti. Nel quale programma? Che ci si può inserire? Qualsiasi cosa che uno desidera, documenti, audio, video, tutti i vari tipi di documenti che esistono da archiviare. Così ho iniziato questo qua. Per esempio, lì ci sono tutti i documenti di famiglia, una fotografia del nostro nonno, che crediamo sarà stata ripresa negli Stati Uniti, perché lui ha emigrato nel 1904 negli Stati Uniti. Unica fotografia. Anche c'è la voce di mio padre, di mia madre, che sono le fondamenta che dopo ho usato per creare più in avanti questo documentario della famiglia. L'anno scorso, il 3 ottobre, nostro padre era morto 20 anni fa. Meno male, credo che sarà stato per una iniziativa del nostro caro Silvio Petroro, che negli anni 70 raccoglieva questi documenti. Ho sentito che desiderava, e così a quell'epoca registravo le voci, ho fatto la storia di mio padre, ed ho mandato una copia a Silvio. Nell'88 ho fatto la voce di mia madre, che in quel tempo mi occupavo di queste cose. E dopo, nell'anno scorso, 20 anni il nostro padre era morto, ha fatto cose che si può fare. Ho detto, beh, sarebbe una bella, le risorse ci sono, c'è la sua voce, mia madre. E così ho pensato, perché non creare un documentario, perché avevo imparato a usare questi software. E così, l'anno scorso abbiamo messo insieme la storia. E adesso, dovunque vado, dico questo perché mi ricordo le facce dei miei fratelli e sorelle. Loro da 20 anni non avevano mai sentito la voce del loro padre. E i nostri nipoti, negli anni 20, era come se fosse un uomo, una persona riportata dall'altro mondo, quando hanno sentito la voce del loro nonno. Franco, però poi tu hai continuato, ci sei andato oltre la tua famiglia e hai iniziato a fare questo lavoro anche per altre famiglie. Adesso, avendo finito la mia famiglia, ho pensato cosa fare adesso. Essendo figlio di migranti non ci possiamo riposare, bisogna essere attivi. Come dico spesso, papà non ci ha insegnato di come andare in vacanza, solo aietta le suong, diceva mio padre ogni tanto. E così ho pensato, beh, il prossimo passo avanti sarebbe di fare i miei paesani, compaesani. E così l'anno scorso ho deciso e ho iniziato di fare queste storie devastesi. Qua è la famiglia di Antonio e Celia Barone. Sì, sì. O io, anche per scopo pratico, ho fatto, meglio che gli anziani, quelli rimasti, e ho sentito dire di questo Antonio Barone del 18. La sua moglie, anche interessantissima, consiglia Barone, in realtà l'era consiglia De Rosa e forse la sua madre, Concetta, sarà stata la prima vastese di emigrare in Australia, nel 1934, a raggiungere il marito, Nicole, che era già dal 1927, credo. E così lei spiega come sua madre, lasciando vasto, è andata ad abitare in un centro rurale tutto da sola. Qui si bussava al muro per parlare col vicino di casa. Là il vicino di casa non si vedeva. Si può immaginare questa povera donna come se la passava là. Senti, e come la prendono i tuoi amici, figli, nipoti, pronipoti, di emigrati, che vedono questi lavori? Finora, ho entrato ultimamente al Vasto Club, ho fatto vedere un po' del mio lavoro, perché non tutti della nostra generazione apprezzano l'importanza di questo lavoro. Saranno la terza generazione. i nostri nipoti, che è già un fenomeno che da anni fa, mi ricordo, quando studiavo, che in particolare degli Stati Uniti, la terza generazione negli anni 50-60, cominciavano a chiedere ma i nostri nonni di dove sono? Perché sono venuti via dalla nostra terra nativa? E tanti sono ritornati in Italia, nell'Europa, a scoprire le loro radici. E questo era un fenomeno anche dall'Australia. vedo spesso che sono loro, la terza generazione, che sono interessati in queste cose. Grazie a noi, diciamo che da ora in poi anche i nostri affezionati ascoltatori, i nostri, coloro che ci seguono, potranno vedere il lavoro incomiabile che sta facendo Franco, che non riguarda solo la vita privata, ma in realtà riguarda anche degli eventi, perché poi queste persone, lui le documenta, mentre partecipano anche a eventi pubblici, a riunioni di gruppo, a riunioni di italiani, a feste. Sì, sì, in realtà spero, sono tornato a Vasto qua, perché ho pensato anche l'importante sarebbe l'esperienza di questi tanti migranti vastesi che sono andati e dopo hanno deciso di ritornare qui a casa. Come mai? Perché? Le loro esperienze nella vita, come l'hanno visto loro? E così mi trovo a Vasto per cercare di fare un po' di ricerca su di loro. Grazie a tutti.